Signore e signori, siete in collegamento mentale. Benvenuti a bordo del TH Vole Europa. Desideriamo darvi alcune informazioni tecniche sul nostro volo. Il comandante è il signor Vole Europa. Quando sono venuto qui, non sapevo cosa mi aspettava. Ho visto che molta gente mi odiava. E io non sapevo come la dovevo prendere. Poi ho capito che neanche voi mi piacevano. Ma durante questo incontro ho visto cambiare le cose. Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare, e voi potete cambiare. Tutto è tutto! Benvenuti. Benvenuti in questo nuovo mondo fatato. Una nuova favola sta per cominciare. Con la nostra musica e con la vostra energia. Questa notte tutto può accadere. Salute a te, Denethor, figlio di Actelion. Signore e sovrintendente di Condor. Giungo con notizie, questa ora buia, e con consigli. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenere lo schienale della poltrona in posizione verticale fino a decollo avvenuto. Grazie per la contesa di attenzione e buon volo. Grazie per la contesa.